SIGLA 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 Oddio, ma che problemi hai?! Hai il controllo? Sensazioni di rabbia irrefrenabili? No! Sensazioni di rabbia normale! Lo sai, tu ritorni alla forma Jen quando ti addormenti. Quella trombetta era necessaria? Per una bella risata, certo. Stai per intraprendere un percorso pluriennale. Sì! Chi è il tuo migliore amico? Nicky! Spandex! Lo spandex è il tuo migliore amico. Essere un Hulk richiede equilibrio. Tu devi ancora imparare molto. Sì! È evidente che sono eccellente in tutto. Se vuoi tornare alla tua vita d'avvocato, io lo rispetto. Non è sincero. I superumani ormai spuntano fuori dappertutto. Abbiamo inaugurato una divisione apposita e voglio che She-Hulk ne sia il voto. Jennifer Walters. Namaste. Ho un pesante conflitto di interessi. Ha cercato di uccidere mio cugino Bruce. Sì, non fa niente. Oh. Sono solo incuriositi perché rappresento Emil Blosky. Secondo me sono incuriositi perché sei verde. Jen, muoviti. Oddio, è il mio vestito preferito. Non ne vado, Fiera. Signora Walters, noi rispondiamo a un potere superiore. Il nostro universo è sull'orlo del precipizio. Sono un avvocato. Mi attengo a un libro sacro. Il libro dei viscianti. No, il libro delle leggi americane. Che ti piaccia o no, ora sei una supereroina. Sono pronta. Avete presente la compagna di scuola più bella, più popolare, che ha sempre tutte le attenzioni? Eccola. Credo di essere invidioso. È questo? Sono invidioso?